Siamo qui con Barbara, della bottega di Barbara di Monteprandone, impegnata nei manicaretti da fornire ai visitatori di fermento marchigiano e proprio di questo chiediamo a lei un pensiero sull'edizione 2018 qui a Monteprandone. Niente, che dire, ora sono affannatissima perché sono più di tre ore che faccio panini. Sono felice perché la manifestazione vedo che sta riuscendo grazie ai collaboratori che comunque hanno fatto una grande pubblicità a tutti i ragazzi dello staff e spero che sia andata bene e penso di sì perché c'è molta fila davanti al mio negozio. Quindi possiamo dare una rivederci alla edizione 2019? Sicuramente, sicuramente, con più prodotti particolari. Ok, allora buona rassegna all'anno prossimo. Grazie.